Ciao famiglia bianconera. Benvenuto nel canale, lascia il tuo mi piace e be' iscriviti. Per ricevere notizie dalla vecchia signora ogni giorno. Il Red Bull Salisburgo ha guadagnato notorietà per trasformare giovani promettenti in stelle del calcio, come Erling Haaland, Sadio Mane, Dayo Tupamecano, Nabi Keita e l'ultimo esempio, Dominic Soboslay. Ora, un altro giovane calciatore sta attirando l'attenzione al Red Bull Salisburgo, il danese Mauriz Kiergaard, un centrocampista offensivo di soli 20 anni e una delle promesse in ascesa del club austriaco. Ci sono segnalazioni di interesse sia dalla Juventus che dall'Inter per Kiergaard. Quando gli è stato chiesto di un possibile trasferimento in Italia, Kiergaard ha dichiarato. Inter e Juventus. La gente ne parla, e anch'io seguo le notizie. È incredibile leggere qualcosa del genere. Alla fine della giornata, giochiamo a calcio per divertirci, ma ora è anche il nostro lavoro. Il piano è, se tutto va bene, fare il trasferimento l'estate prossima. Questa dichiarazione suggerisce che Kiergaard è aperto a un trasferimento in Italia se dovesse arrivare un'offerta interessante. Tifoso bianconero, la Juventus dovrebbe o no investire in Mauriz Kiergaard? La tua opinione è molto importante.